ripartendo dal leone si segno del leone allora leoncini giornata tutto sommato positiva però l'avvertimento è questo se avete un'agenda su cui appuntate tutti i vostri impegni gli appuntamenti eccetera consultatela perché rischiate a di dimenticare qualcosa di importante b di perdere anche qualcosa non so il cellulare il vostro portafoglio mi raccomando grande concentrazione su queste cose per il resto questa è una giornata che può darvi anche delle belle soddisfazioni se dovete dare una risposta beh dovete un pochettino accelerare i tempi ma questo potrebbe essere il giorno giusto anche per ricevere una conferma